All'improvviso si è sentita male e ha preso delle pastiglie per calmare il dolore, ha detto. Durante la serata, come dire, è come se mi sparisse davanti agli occhi. Prima si è arrabbiata, ha iniziato a picchiare, poi mi voleva baciare. Per me, che già mi sentivo parecchio a disagio per il solo fatto di trovarmi in un luogo pubblico con un'altra donna, è chiaro che la situazione stava diventando un po' un incubo. Quindi ho pensato sensato portarla fuori di lì, ma lei non ce la faceva a camminare da sola. Ma perciò l'hai trascinata fuori? Esatto. E te la sei portata a casa? Te lo tendo, a camminare da sola non ci riusciva e ho dovuto portarmela dietro. Fino a casa, tanto era a casa da solo. Prima ho pensato che sarebbe stato meglio svestirla un po', in modo che respirasse meglio, più libera. Sì, respirasse meglio, più libera. Tossava dei jeans stretti e degli stivali aderenti. Ho pensato che se facevo circolare un po' d'aria, se le lasciavo respirare il corpo, si sarebbe sicuramente sentita un po' meglio. Poi... mi ha preso una smania.